Cosa vuoi, Mungo? Penso che ce lo possiamo permettere. In fondo, la roba che ci hai portato ci è stata di aiuto. Va bene. Che ne dici di due per uno? Ogni due dosi di droga o pezzi di carne o di qualsiasi altra cosa ti daranno un pezzo di fungo. Mi sembra eco. Già, scommetto che hai già sentito tutto sul fungo nella mia caverna. Già, certo, il fungo della caverna. È ottimo da mangiare e come medicina. Ed è il principale dannato motivo per cui siamo sopravvissuti quaggiù. Dunque, vuoi una fetta di quell'oro grigio verde, eh? Penso che potremo raggiungere un accordo. Cosa offri? Boh, è tutto come dovrebbe essere allora. Dunque, parlami dell'affare. Invece di sprecare gli esplosivi cercando di chiudere tutte le uscite solo per farci scavare ancora. Prendi la mia riserva privata di funghi. Ecco. Ma non aspetterei molta cordialità in città dopo questo fottuto bastardo di un mungo. Già, certo, ma che importa? Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 I nostri passi devono essere misurati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'aria ha un odore di... Pericolo. Pericolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dobbiamo... Dobbiamo essere consapevoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Cerchi qualcosa da comprare? Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Mentre vi parlo, impavidi i soldati dell'enclave rinforzano le loro posizioni al grande purificatore dell'acqua, in vista di un inevitabile attacco L'ultraternita Paggiaio, nella sua arroganza, ha dichiarato che il progetto purezza è suo Ruberebbero il lavoro dell'enclave, l'acqua dell'America È solo questione di tempo prima che i traditori marcino alla... I nostri passi devono essere misurati I nostri passi devono essere misurati No 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 In tutto, la calma deve prevalere. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non In tutto, la calma deve prevalere Ok, chi è il prossimo? Non c'è il video Ah! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti